Ed ora un regalo a tutti i telespettatori con un altro momento di ballo con le allieve dirette da Paola Vicano. Ed ora un regalo a tutti i telespettatori. 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 E vi ringraziamo per questo. Quest'anno ho voluto portare subito all'inizio i ragazzi più giovani perché avevo promesso di portarli. E quindi mi sembra giusto gratificare un po' tutti quelli che vengono da scuola. Nella tua scuola ci sono anche tante novità. Ci sono novità perché ho cominciato a collaborare anche con ballerini esterni sia per stage tipo Ilir, Amilcar, insomma nomi importanti, ma anche con ballerini del posto che mi aiutano nella coreografia e anche nella didattica. Quindi sempre per offrire ancora di più competenza, didattica, novità e anche stili che ahimè non sono più adatti alla mia età. E allora bisogna farti aiutare. Sei un'eterna ragazza, non cambi mai. Poi sei un grande punto di riferimento. Io ogni volta che rivedo Paola veramente è sempre una gioia. Grazie, anche per noi lo è essere qui con voi e grazie ancora. E grazie ai miei allievi che sono qui. Bravi, bravi, bravi. Cito Franceschini per tutte. Voglio chiamare anche le altre piccoline. Venite per favore. Grazie, allora intanto sì siamo arrivati al momento quasi dei titoli di coda, quindi siamo quasi in sigla. Io vorrei ringraziare Paola, tutte le allieve.